Ciao Andrea, Cartablet dedicato Ranger Over Sport è arrivato, eccolo qui, siamo nella home poi domani ti invio la tracciabilità ti ho fatto inserire anche la gestione vocale attiva la navigazione apri YouTube fai partire la musica attiva la navigazione apri film ovviamente poi qui potrai selezionare mettere usb altri film, eccolo qui, in questo caso facciamo partire un altro film dentro la scatola troverai tutti i supporti del cruscotto per collegarlo bene perché questo è tutto il tablet poi ci sono i supporti neri per essere omogeneo in macchina avrai anche Apple CarPlay WiFi qui c'è tutta la lista app questa è l'app Apple CarPlay WiFi come radio userai la radio originale ti aspetta un bel lavoro perché dovrai smontare un flat del monito originale e collegarlo al nostro cartablet comunque poi ti invierò delle foto e delle istruzioni per come farlo via voce bluetooth streaming musicale gestione audio e video io ti ringrazio e ci aggiorniamo a domani grazie 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 grazie